MagnaPars Suite Milano MagnaPars Suite Milano, il primo tela parfum in Italia e probabilmente anche nel mondo Nasce in via Forcella 6, siamo in zona Tortona Siamo proprio nella sede della nostra ex fabbrica di profumi MagnaPars Suite Milano è un hotel a parfum perché è ispirato integralmente al mondo dei profumi Il claim del nostro hotel è infatti The Essence of Living Il simbolo dell'hotel è un albero MagnaPars Suite Milano ha 28 suite Abbiamo deciso di avere come minima metratura un 60 metri quadrati Di conseguenza parliamo soltanto di suite Nove suite hanno una profumazione ispirata al mondo dei legni Vanno dal vetiver, al paciuli, al legno di sandalo, le resine profumate quali l'hud Abbiamo invece le restanti suite ispirate al mondo dei fiori Che vanno dalla violetta alla mimosa, il fiore dell'artemisia, quindi un fiore più particolare Fino ad arrivare a una magnolia, alle rose, al fiore d'arancio Per gli amanti dei profumi può essere possibile scegliere la propria suite in base al proprio desiderio olfattivo Ai nostri ospiti offriamo veramente una gamma di servizi a 360 gradi Il nostro obiettivo è trattarli come se fossero a casa propria E quindi avere tutti i servizi confortevoli di casa ai massimi livelli che può offrire un hotel di lusso Abbiamo una libreria dedicata e tanti libri a disposizione dei nostri ospiti Libri scritti in tutte le lingue e anche libri antichi Avere il piacere quindi di una lettura del tutto particolare Abbiamo un giardino, un piccolo polmone verde nel quale respirare Sono alberi ispirati proprio alla nostra filosofia Abbiamo un roof deck dal quale ammirare l'antica Milano Che si può sempre vedere essendo qua nella zona dei navigli e la zona del design Abbiamo una spa pensata per i nostri ospiti per un percorso di coppia e un percorso molto esclusivo Abbiamo una palestra attrezzata con tutti gli strumenti della Tecnogym Sempre in questo ambito di voler far sentire l'ospite come se fosse in un ambiente privato e a casa propria Abbiamo delle suite molto ampie, molto belle Che sono veramente adatte a fare dei parti esclusivi piuttosto che meeting di alto livello Per coloro che non amano le tipiche sale meeting Da bravi italiani una parte fondamentale del nostro hotel è il ristorante Il ristorante Dano In via Forcella 6 ha un fantastico chef che ha saputo trattare tutti quegli ingredienti di primissima qualità tipici della cucina italiana in una maniera sofisticata ma al tempo stesso molto semplice Il ristorante Dano In è aperto anche al pubblico esterno Il sabato organizziamo un meraviglioso brunch Un brunch all'aperto perché si può stare in giardino sia d'inverno che d'estate A Diacente al ristorante abbiamo anche un bellissimo bar chiamato Liquid Anbar Dedicato proprio a questa bellissima pianta che possiamo vedere oltretutto alle mie spalle Abbiamo infine una cantina molto prestigiosa con oltre 600 etichette di vini italiani Puntiamo molto sui vini italiani senza escludere le eccellenze che possono provenire da altre parti del mondo Questa è un po' la filosofia del nostro hotel La filosofia di un made in Italy aperto chiaramente al pubblico internazionale